Filippo D'Averio ha accettato l'incarico del Tribunale di Arezzo. Adesso dunque spetterà al noto critico d'arte valutare il prezzo di innanzo dell'archivio Vasari. Il Ministero dei beni culturali nel decreto di esproprio dello scorso aprile lo aveva stabilito in un milione e mezzo di euro, cifra contestata dai proprietari espropriati i fratelli Festari che avevano così avviato la procedura giudiziaria. Era stato così nominato dal Tribunale come perito superpartes prima l'ex ministro Antonio Paolucci e poi Claudio Strenati, entrambi ricusati dalla famiglia Festari. Ad indicare il nome di D'Averio infine era stato il giudice arettino Antonio Picardi. Il noto critico d'arte, a differenza degli altri due nomi, non ha mai avuto incarichi istituzionali con il Ministero. Gli altri periti sono Renato Saggiori, scelto dai proprietari e Francesco Caglioti, nominato invece dal Ministero. La contesa sul prezioso carteggio va avanti da decenni ed è passata attraverso accese polemiche e procedimenti giudiziari sia penali che civili. Attualmente l'archivio è di proprietà dello Stato dopo l'esproprio, ma i fratelli Festari contestano l'indennizzo giudicato troppo basso. Nel 2009 infatti a loro arrivò l'offerta di un magnate russo di 150 milioni di euro. Le carte fra le quali ci sono un sonetto di Michelangelo e le lettere dei grandi del Rinascimento sono conservate all'interno della casa dell'artista.